Ciao ragazzi, oggi vi porto con me nel mio mondo e vi faccio vedere come funziona una giornata in preparazione dell'Ironman. Ciao Andrea, benvenuto, pensavi che gli allenamenti fossero terminati ma adesso continuiamo. Io sono Tobia di Toyota Driving Academy e adesso ti potrei scoprire la nuova Yaris e il suo nuovo motore ibrido. Ciao Tobia, piacere mio e piacere di conoscere la nuova Toyota Yaris, sono pronto. E allora andiamo. Vedi Andrea, tu fai l'Ironman e quindi per te le prestazioni sono determinanti, così come quelle della nuova Yaris. Il motore della nuova Yaris è veramente l'ibrido migliore di sempre, Hybrid Dynamic Force, un motore 1.5 di cilindrata abbinato a un motore elettrico che sviluppa ben 116 CV. Nell'Ironman, che è la mia prossima avventura, servono tutte le componenti giuste per portarlo a termine, diciamo nel migliore dei modi. Sicuramente l'attrezzatura, il cuore, la testa e l'emozione sono tutte cose fondamentali per riuscire a dare qualcosa in più che ti permette di fare meglio. Con questa Yaris puoi fare una guida sportiva ed emozionante allo stesso tempo e comunque, concetto fondamentale, hai la tecnologia ibrida di ultimissima generazione, veramente l'ibrido migliore di sempre, per cui puoi performare in maniera straordinaria sia sotto l'aspetto dei consumi e conseguentemente delle emissioni. La parola d'ordine di questa auto è energia, che credo si sposi assolutamente con le tue caratteristiche, Andrea. Sì, guarda Tobia, sicuramente emozione e energia sono componenti fondamentali nello sport, ma anche nella vita di tutti i giorni. L'energia aiuta a terminare una gara e le emozioni ti dà qualcosa in più quando la termini. Ciao ragazzi, oggi è stata una bellissima esperienza con Toyota, ora lascio l'energia della nuova Yaris Hybrid alla mia amica Ilaria Nae. Seguitela!